La cronaca Al Teatro Comunale di Soverato la presentazione ufficiale del live tour 18 della band catanzarese Vasco Rock Show, lo sport. Buonasera da S1 News. Un fusto in avanzato stato di degrado è stato trovato sulla spiaggia di Roccelletta nel comune di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i tecnici del comune che immediatamente hanno allertato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale e personale del nucleo NBCR che, delimitata la zona, ha effettuato una verifica tecnico-strumentale di tipo radiometrica e chimica. Dai rilevi effettuati i valori strumentali assimilabili al fondo naturale hanno permesso al personale del nucleo NBCR e dei vigili del fuoco di escludere presenza di contaminanti radioattivi e di sostanze chimiche tossiche o nocive per la popolazione e l'ambiente. Il fusto messo in sicurezza è stato rimosso da una ditta specializzata contattata dal comune per le operazioni di smaltimento. I carabinieri della compagnia di Soverato, nel corso di una battuta nella zona delle preserre catanzaresi, insieme allo squadrone li portato cacciatori calabrie di unità cinofile anti-esplosivo, hanno trovato una pistola Revolver 44 Magnum, una pistola con canne parallele senza matricola, due fucili calibro 12, 90 cartucce di vario calibro, 5 involucri per complessivi 100 grammi con ascisce marijuana e 4 bilancini di precisione. Armi e droga erano nascoste tra la vegetazione in un'area impervia di Chiaravalle Centrale. La battuta è stata disposta dopo segnalazioni relative alla presenza di un armario blindato di velto e di possibile provenienza furtiva. Le ricerche sono proseguite anche in alcuni vicini casolari abitati e non, con la scoperta di sei flaconi di metadone e un blocnotes contenente appunti manoscritti con conseguente denuncia di un giovane del posto. Le armi verranno inviate a RIS di Messina per i successivi accertamenti tecnici. Un uomo di 49 anni rimasto schiacciato da un albero è stato soccorso dai vigili del fuoco e portato all'ospedale di Soverato. L'incidente è avvenuto a Torre di Ruggero. L'uomo era intento al taglio di un albero d'alto fusto quando è stato travolto riportando un trauma all'arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, supportati dal personale sanitario del SUEM 118 ed hanno raggiunto il ferito addentrandosi in una zona impervia. Prestate le prime cure lo hanno immobilizzato sulla barella spinale e trasportato fino alla strada dove ad attendere vi era un'ambulanza per il suo trasferimento in ospedale. E si è svolta al Teatro Comunale di Soverato la presentazione ufficiale del Live Tour 18 della band Catanzareste Vasco Rock Show. Lo straordinario concerto che ha fatto da data zero del tour è stato organizzato dalla SM Musica di Maurizio Senese. Vediamo il servizio. Si è svolta ieri alla Teatro Comunale di Soverato con ingresso libero la presentazione ufficiale del Live Tour 2018 della band Catanzarese Vasco Rock Show. Come per i concerti del Blasco Nazionale è stato anche per la Vasco Rock Show un sold-out per un evento unico nel suo genere. Noi ci mettiamo tanta passione, tanto sudore, tanto sangue, tante lacrime per raggiungere dei livelli discreti affinché la gente si possa divertire, possa avere i concerti. Poi vedo sempre che la partecipazione è tanta per cui probabilmente tante delle energie che noi spendiamo ci ritornano, sono ben ripagate. Lo straordinario concerto che ha fatto da data zero del tour è stato organizzato dalla SM Musica di Maurizio Senese che da ben due anni cura il management della band calabrese e che contribuirà a perfezionare, a consolidare ciò che questi artisti hanno già saputo dimostrare nei loro otto anni di attività e nei numerosi concerti realizzati in tutta Italia. Sì, fare i grandi eventi, i grandi nomi, però ho notato che questa band ha qualcosa di particolare. Ci sono dei musicisti straordinari, Massimiliano che interpreta bene rock star come Vasco Rossi, ci vogliamo divertire, abbiamo voluto fare questa data zero per dimostrare il valore di questa tributo band, abbiamo invitato amministratori, abbiamo invitato addette ai lavori, promoter, hanno risposto all'invito, abbiamo voluto condividere questa serata con tantissima gente che poi è il pubblico, quello che ci tengo tantissimo io, sia nei miei concerti sia in questa serata. Il segreto è la passione, cioè quella la passione, l'amicizia che ci unisce perché poi siamo un gruppo di amici e è tutto un insieme che rende poi bene sul palco e rende il concerto potente. No, intanto è una iniziativa molto importante che Maurizio Senese, un promoter catanzarese, che è molto impegnato nel valorizzare sia la musica ma soprattutto i territori. ... ... All'ultima canzone di solito realizzo, in Alba Chiara guardo, vedo e quando vedo che sono tutti contenti poi ci hanno seguito fino alla fine nonostante anche il caldo perché siamo all'interno di un teatro e allora la soddisfazione è massima. E passiamo alla pagina sportiva, calcio in eccellenza perde in casa lo Scalea con il Locri per 0 a 1. Il servizio. Un Locri assolutamente spietato è quello che è sceso in campo a lungo buco di Scalea nella penultima partita della stagione, ultima trasferta per Iamaranto che mandano in archivio un campionato straordinario imbattuti fuori casa. La partita viene decisa al ventiquattresimo del primo tempo da un gol fortemente voluto e soprattutto bellissimo nella realizzazione di Marco Puntoriere, autentico killer soprattutto in trasferta che dopo aver risolto diverse situazioni difficili e marcato la rete che valsa la Serie D non vuole più smettere di segnare. La partita è stata giocata dallo Scalea sul filo del rasoio e soprattutto con molto nervosismo, prova ne è che al 36esimo del secondo tempo Carvelli non ha potuto fare a meno di espellere Chemi appena entrato. Anche il Locri al termine ha concluso con 10 giocatori in campo per l'espulsione di Castellano. A questo punto ci sarà una passerella finale probabilmente in campo neutro per i Locri a causa dei lavori di restyling del vecchio comunale contro l'Acri che con i risultati maturati oggi non disputerebbe il post-season che invece spetterebbe allo Scalea per provare a salvare la categoria. In prima categoria vince in casa il Borgia contro il Mammola per 3-0. Classica partita di fine stagione tra Borgia e il Mammola, ma il Borgia la vince meritatamente, un 3-0 secco nel primo tempo, un calcio di rigore, un altro gol di Passafaro che lo stesso ha sbagliato anche un altro rigore e poi la rete di Alfieri. Quindi 3-0 secco nel primo tempo, nel secondo tempo con questo caldo, mister, spera che siamo andati un pochettino al mare tutti quanti. Non riesco a capire il nervosismo su una partita del genere, tranquilla, serena e in testa a dirsi, a dire e a fare alcune dichiarazioni. A me dispiace, Borgia fino all'ultima partita farà le sue partite, il caldo sicuramente non aiuta. Sono d'accordo con lei perché certe volte certe parole potrebbero essere evitate perché siamo nel calcio. Onestamente, la dico da giornalista, siamo un po' stanchi a sentire tutte queste frasi ogni volta sui campi di calcio, ci viene quasi la voglia di non venire più. Ma torniamo alla partita, torniamo al calcio giocato, quindi un finale di stagione che in pratica vi vede confermare il vostro quarto posto. Era il nostro obiettivo inizialmente lanciare i giovani e arrivare fra i primi 4-5 squadre. Chiaramente il San Caloggio, il Montone e la Vigor meritano il Trittico là davanti e speriamo che alla fine vinca il migliore. Però chiaramente per il Borgia il campionato non è finito perché a parte le due partite che ci sono ancora, avrete un bel derby domenica prossima qui a Borgia contro l'Eurogiri Falco. E sappiamo quanto è sentita questa partita. Ma l'affronteremo sicuramente come derby. I ragazzi sono cari che non vedono l'ora che si faccia questa partita perché andremo a Pienopoli e chiuderemo questo campionato. Ma ripeto, la mia soddisfazione è stata quella di aver lanciato tantissimi giovani di Borgia. Io mi porto un po' avanti col mio lavoro, ci sono già le premesse per la riconferma e che il mister Magro resti a Borgia? Ma questa è una domanda che dovete fare al Presidente. Io mi auguro, ho lavorato bene. Lei vorrebbe restare? Sì, si compiege anche perché mi sono trovato bene a Borgia, c'è un bel ambiente, ci sono dei giovani promettenti e bisogna sedersi e organizzare il futuro. Allora siamo con il dirigente Macri del Mammo, lo dicevamo con il mister del Borgia, una partita di fine campionato, oltretutto con Primo Caldo. Perché quel nervosismo alla fine del primo tempo? No, qualche battibecco tra i giocatori, cose che succedono, niente di particolare. Poi sono calmati dentro gli spogliatori e finita l'anno. Ecco, il Mammo l'ha fatto un bel campionato per tutto, un bel girone di andata. Tutti quanti pensavamo che fosse una delle ammazzagrandi, specialmente quando ha battuto la Vigor la Mezzia. Poi si è lasciato un po' andare. Dopo la partita della Vigor abbiamo giocato un infrasettimanale col Caolone. E la partita col Caolone ci ha tagliato le gambe noi, perché abbiamo perso in casa dopo tanti anni quella partita. E poi non ci siamo più ritrovati, tranne la partita di Montepavone, con il Montepavone che abbiamo fatto una bella partita. Quindi diciamo che un campionato la lascia soddisfatto a metà? No, no, noi siamo partiti per fare un campionato tranquillo. Quindi per me è stato un bel campionato e ringrazio i ragazzi che hanno fatto un grandissimo campionato per noi. Anche perché avevate un girone che probabilmente conoscevate anche poco? Sì, non conoscevamo per niente, quindi era tanti anni che eravamo nel girone di là. Però è un bel girone, si gioca al calcio, quindi per noi è stata una bella esperienza. Vince per 4-0 il Caolonia contro l'Eurogirifalco. Il servizio. Questo Caolonia serviva a completare una risalita che probabilmente alla vigilia, per tanti motivi non era insomma nei piani di nessuno, nelle più ampie e rose previsioni sicuramente già raggiungere una posizione play-out sarebbe stata un'impresa. Però direi che abbiamo fatto un girone di ritorno sicuramente a ritmi di prima classifica. E questo è stato confermato oggi con l'annessima Vittoria Casalinga e ci ha dato ulteriori punti che possono a questo punto darci anche qualche speranza in più per la salvezza diretta. Ancora una volta viene premiata la capabilità, l'impegno dei ragazzi e questo ci tengo a sottolinearlo perché se abbiamo raggiunto questo risultato lo dobbiamo soprattutto nella nostra esistenza, nella nostra forza. Lo merita soprattutto la squadra senza offesa per nessuno perché è la squadra che è rimasta sempre compatta e ha lavorato anche quando tutti già ormai ci davano per spacciati. Senza fare pagelle ai giocatori perché è sempre una cosa difficile, ma questo ragazzo, questo Bolo Yavara questo ragazzo che fa il centroavanti dai gol impossibili perché oggi poteva farne diversi ma invece si è fermato soltanto a due, uno più bello dell'altro. A me non piace parlare molto dei singoli perché è giusto elogiare l'impegno e la costanza della squadra se la squadra non gioca per Bolo è difficile far gol. Sicuramente questo ragazzo è stato un valore aggiunto da quando è stato con noi, ha ancora molto da imparare, ha dei margini di miglioramento notevoli considerando che comunque è alla prima esperienza che fa in un campionato vero e proprio. L'italiano, oggi è una partita difficile per voi, per un sacco di ragioni eravate in pochi soprattutto e poi queste gol iniziali che hanno cambiato il corso della gara. Sì, ci hanno tagliato le gambe, innanzitutto oggi siamo venuti, visto la nostra posizione di classifica pure e l'handicap perché eravamo 11 contatti con due giocatori che era da tre anni che non giocavano al calcio uno infortunato, infatti si vedeva la fermo nel campo, quanto per numero, comunque lo dobbiamo ringraziare per il suo supporto. Purtroppo oggi, visto le tante assenze, i fratelli Conidi, Quirino, Sorrentino, ne mancavano tantissime, Burdino e tanti, siamo venuti qua giusto per fare la nostra partita però sempre pensando alla prossima partita per non prendere munizioni, per non fare altro perché come eravamo messi in campo purtroppo non c'era gioco, però ce la siamo giocata lo stesso, abbiamo fatto la nostra partita, anche se all'ultimo siamo rimasti in dieci, per l'infortunio posto di Palaia. Sì, ma la cosa più strana è che la vostra squadra si è svegliata dopo il 4-0. Sì, perché ci siamo messi a giocare, visto la rabbia appunto per questi giocatori che non sono venuti, ci hanno anche boicottato all'ultimo minuto, a mezzogiorno si partiva, ci hanno detto che non venivano a giocare quindi ci hanno dovuto andare a prendere giocatori infortunati come già vi ho detto per poter arrivare a 11 con la squadra. Purtroppo ci siamo svegliati all'ultimo, sì abbiamo fatto un po' di gioco, però nonostante questo non è bastato. Comunque avete fatto un bel campionato, avete sottotitato un bel campionato ancora non è detta l'ultima? Sì, noi abbiamo fatto un bel campionato, siamo in una posizione dove nessuno si aspettava che fossimo infatti alcuni ci chiamavano la matricola perché siamo saliti, però noi abbiamo fatto il nostro campionato potevamo fare ancora di più perché abbiamo pareggiato e perso partite, diciamo, ingiustamente però non andiamo a vedere quello che è successo nel passato, guardiamo al futuro, diciamo ecco, noi abbiamo fatto la partita, oggi domenica andiamo a Borgia, rimangono queste due partite anzi ci troviamo in una posizione, come vi ho detto prima, che nessuno si aspettava, siamo contenti del campionato che abbiamo fatto e ringraziamo tutti il mister e tutti i quali. Goleada dell'US Girifalco che vince per 8 a 0 contro la squadra del Zagarise. Il servizio. Dallo stadio di Girifalco è terminata la partita tra US Girifalco e Zagarise con il risultato di 8 a 0 per l'US Girifalco. Siamo con il mister Salvatore Loiarro, allenatore dell'US Girifalco e oggi appunto la tua squadra ha fatto una grandissima prestazione. Ormai però siamo giunti alla fine del campionato, questa è stata la penultima partita. Oltre ad avere oggi la soddisfazione di questa vittoria, che cosa hai da aggiungere in merito anche alla partita? Allora, innanzitutto oggi abbiamo fatto forse la migliore prestazione dell'anno. Abbiamo trovato il gol subito e quindi la strada è stata in discesa. La tensione iniziale c'era perché avevamo solo un risultato, che era la vittoria, con diversi gol di margine perché c'è la possibilità di arrivare a quattro squadre a 25 punti. Quindi tra scontri diretti e differenza reti dovevamo fare anche un bottino pieno come gol. La squadra ha risposto bene, abbiamo fatto una buonissima partita sotto tutti gli aspetti. Adesso manca solo una partita, dobbiamo andare a fare la partita della vita a Vallefiorita perché con 25 punti possiamo fare almeno una finale play-out in casa e avere i tifosi dalla nostra come oggi ci possono aiutare tanto. Fare play-out invece tutte e due fuori, in campi come Torretta o Crucoli, la situazione si potrebbe complicare. Però se noi siamo la squadra di oggi non abbiamo niente da temere con le altre dei play-out. Tutto quanto alla fine, come stai dicendo tu, si deciderà appunto nella partita, cioè nell'ultima di campionato perché sarà quella fondamentale per sapere appunto il futuro dove si spera che appunto l'USG di Falco facesse una finale qui come hai detto tu. Quindi preparerai sicuramente la squadra nei migliori dei modi in vista della prossima partita. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Non sono arrivati i risultati quest'anno perché non siamo riusciti ad uscire dalla zona play-out. Però noi ci alleniamo, ci alleniamo duramente, bene. Siamo sempre numerosi. Tutti gli allenamenti non siamo mai stati meno di 15, cosa non so se le altre squadre possono dire la stessa cosa. Noi ci stiamo allenando, ci stiamo impegnando. Speriamo di chiudere al meglio questo campionato e poi si vedrà. Vittoria del Bivongi Pazzano che supera per 1-0 lo Stignano. Vediamo il servizio. Vittoria di misura per il Bivongi Pazzano che supera lo Stignano per una rete a 0. Il gol al diciannovesimo del secondo tempo ad opera di Coniglio Antonio, un ragazzo classe 2002, uno tra i più validi giocatori del Bivongi, soprattutto nelle file dei giovani che si stanno facendo avanti nella compagine bivongese. Una partita che sicuramente ha fatto la differenza per il Bivongi in quanto già giocava in superiorità numerica, in quanto lo Stignano è entrato in campo con 11 giocatori e nessun giocatore in panchina. Purtroppo al sesto minuto si è infortunato il giocatore Tassone il quale è rimasto per tutto il corso della partita fuori campo e quindi lo Stignano ha giocato praticamente in 10 uomini. Il mister Carnat che era squalificato comunque si è detto soddisfatto della sua squadra nonostante il risultato negativo di questo campionato perché i ragazzi hanno dato l'anima e hanno dato soprattutto grande disponibilità di gioco anche fino a quest'oggi. Naturalmente mancano ormai due partite, lo Stignano andrà fuori casa la prossima domenica e così anche il Bivongi ritorna in casa invece per ormai festeggiare la matematica sicurezza di permanere nella prima categoria anche per il prossimo campionato. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è con le prossime edizioni di S1 News. Una buona serata. S1 News. Una buona serata.